Salve a tutti, sono Gianfranco Marini e benvenuti a questo appuntamento con i video e l'audio nell'apprendimento. In questo incontro parlerò dello screencast, cercherò meglio che posso di spiegare in che cosa consiste questa tecnica di registrazione dello schermo, molto semplice da utilizzare ed estremamente utile per realizzare non solo video lezioni, ma video didattici in senso lato, video messaggi, video documentazione di eventi e via dicendo. Bene, in primo luogo lo screencast è come abbiamo detto una tecnica molto semplice da usare e anche rapida per realizzare dei video, è a basso costo per non dire senza nessun costo in quanto le applicazioni che si utilizzano sono free o freemium ed è molto versatile, possiamo infatti realizzare video per molteplici scopi didattici. È una delle principali tecniche che permettono di usare i video nella didattica, dicevo, quindi video based learning, esistono altre tecniche come la tecnica tradizionale di riprendere e poi editare e pubblicare i video, che però presenta altre caratteristiche. Bene, cos'è e come funziona lo screencast? Perché è così semplice da utilizzare? Perché come vedete l'operazione consiste nel cliccare un tasto, il tasto record, che ci permette di registrare tutto ciò che avviene nel monitor del nostro computer, più la voce, la nostra voce, dobbiamo disporre ovviamente di un microfono, che commenta quello che avviene. Ora, dato che sullo schermo di un computer possiamo fare di tutto, visualizzare qualsiasi cosa, una presentazione, un'immagine, un grafico, un'infografica, un documento, un articolo di un giornale online e potrei continuare, si capisce l'estrema versatilità di questa tecnologia, anche le potenzialità che sono implicite in essa. Essendo un web multimediale, per esempio, è ipertestuale, ipermediale potremmo dire, anche il video che otterremo, se sfruttiamo appieno le potenzialità del web, avrà queste caratteristiche. Vediamo adesso quali sono i vantaggi dello screencast e perché, amiamo quest'issima opinione per carità, è forse la procedura per creare dei video più adatta a quelle che sono le esigenze del docente, ma anche degli studenti. Ricordiamoci che non si tratta soltanto di realizzare dei video da parte del docente. Occorre anche che gli studenti facciano pratica di questa tecnica e si impadroniscano delle operazioni principali che permettono di creare e condividere i video. Beh, dicevamo, che vantaggi presenta rispetto ad un video tradizionale? I costi, prima di tutto, sono minimi. Se andiamo a vedere i dispositivi che occorrono per effettuare le riprese, montare un video, ci rendiamo subito conto che tra videocamera, treppiede, qui ho messo un microfono, le luci, ecco, e poi il software di video editing, i costi possono levitare anche a diverse migliaia di euro. Inoltre, realizzare un video, chiamiamolo tradizionale, richiede delle competenze estremamente specialistiche. Già, per esempio, impostare le luci per una ripresa in un interno è qualcosa di piuttosto complicato. Anche diventare degli operatori che abbiano un minimo di competenze ed effettuino delle riprese, in grazia di Dio, è estremamente complicato. Ora, non si può certo chiedere a un docente di diventare competente in decine e decine di attività, discipline e professioni diverse. Naturalmente, come in tutte le professioni, dagli ingegneri agli avvocati ai medici, anche i docenti devono utilizzare queste tecnologie, ma devono prendere ciò che gli serve. Non devono diventare degli esperti in queste tecnologie, come per un ingegnere e come per un medico, devono prendere da queste tecnologie ciò che gli occorre per quella che è la finalità principale della loro attività. E basta. Bene, fatta questa premessa, andiamo a vedere. Quindi, costi minimi, dicevamo, non richiede, ecco, lo screencast non richiede conoscenze specifiche e specialistiche. Abbiamo già visto, tutto ciò che occorre saper fare è cliccare sul tasto record, sul tasto pausa e sul tasto stop. Tutto qui fondamentalmente. Per questo è anche estremamente rapido e pratico, perché quello che poi noi facciamo a video, la nostra spiegazione, il messaggio che diamo agli studenti, la spiegazione di un'unità didattica che presentiamo loro tramite il nostro video, è ciò che già sappiamo fare, ma in questo modo abbiamo un supporto in più, un canale di comunicazione in più. Inoltre è adattabile a qualsiasi esigenza, per questo dicevo che non si tratta soltanto di fare delle video lezioni. Possiamo per esempio correggere i lavori degli studenti, possiamo realizzare un video tutorial o una guida in cui spieghiamo come funziona un'applicazione o come funziona un dispositivo che devono utilizzare in un'attività di laboratorio e via dicendo. Il video poi è immediatamente condivisibile attraverso varie piattaforme e vari social media, da Vimeo per esempio, a Youtube, oppure si può condividere con Google Drive o con altri servizi di condivisione del genere. Ultimo ma non ultimo, insegnare agli studenti come si realizza un video con questa tecnica richiede che gli studenti compiano un percorso che sviluppa e potenzia le loro competenze digitali nell'ambito di quella che è la media education. Progettare questo video, impadronirsi delle tecniche per realizzarlo, gestire per esempio un canale Youtube e così via. Quindi come si vede, naturalmente saper integrare immagini, audio, video e quindi realizzare un prodotto che presenti codici differenti utilizzati in modo sinergico per così dire. ecco, quindi anche le competenze digitali in senso lato e in senso specifico la media education trovano un supporto nell'utilizzo dello screencast in ambito didattico. Bene, vediamo adesso come usare lo screencast in ambito didattico. Guardate, è estremamente versatile, perché? Perché posso realizzare video lezioni, come vedremo poi, questo è l'impiego che viene immediatamente in mente, ma posso per esempio anche realizzare un tutorial su un'applicazione web, dicevo prima, o su uno strumento che gli studenti devono imparare ad utilizzare. Posso con una presentazione spiegare un argomento di carattere disciplinare o interdisciplinare, posso realizzare una guida che può servire agli studenti per esempio per preparare un'attività di gruppo, posso tramite sempre un video dar loro delle istruzioni o delle consegne relativi a un'unità didattica, a un lavoro che devono svolgere magari utilizzando il web e così via. Posso anche realizzare dei video messaggi che poi posso in modo molto semplice condividere o con i genitori o con gli studenti e quindi in qualche modo potenziare anche il rapporto di comunicazione tra i vari soggetti coinvolti nella formazione. Possiamo realizzare video recensioni o naturalmente farle realizzare ai nostri studenti, si può recensire una poesia come si può recensire, intendendo questo termine in senso molto generale, che so, un'eruzione vulcanica, un evento di attualità, un film, un libro, un'opera d'arte, eccetera. Posso correggere documenti di testo? Io l'ho usato spesso con questo scopo, mi ci soffermo un attimo per far capire la versatilità dello screencast. Per esempio, se gli studenti hanno condiviso in una cartella su Dropbox o su Google Drive i loro documenti di testo in cui hanno svolto un determinato lavoro, io posso aprire questi documenti di testo e con lo screencast e usando la sottolineatura ai commenti, correggerli. Posso correggere qualsiasi lavoro di tipo digitale che gli studenti e le studentesse hanno realizzato utilizzando applicazioni web e strumenti web. Ma pensiamo poi al resoconto delle esperienze. Posso assegnare alle studentesse e agli studenti l'incarico di realizzare un video in cui utilizzando foto, utilizzando video, utilizzando materiale audio dal loro registrato, documentano un'esperienza che hanno svolto in classe, un'attività di gruppo che hanno svolto in classe, un'attività di laboratorio o magari un'uscita didattica, un viaggio di istruzione e così via. Posso usare lo screencast per creare poi dei racconti, oppure per far sì che gli studenti imparino a presentarsi in determinate situazioni, in determinati contesti e per un determinato scopo. E si potrebbero aggiungere anche altre funzionalità. Prima di proseguire il nostro discorso sulla registrazione dello schermo, lo screencast, sarà opportuno chiarire qual è il contesto, qual è l'ambiente dal punto di vista spazio-temporale in cui noi utilizziamo questa tecnica, questa procedura, cioè qual è l'organizzazione dell'ambiente di apprendimento e di insegnamento che possiamo intravedere, dentro la quale possiamo situare questo tipo di tecnologia. Bene, il modello è quello del blended learning, cioè dell'apprendimento misto alla lettera. Cosa vuol dire apprendimento misto in questo caso? Vuol dire integrare l'apprendimento in presenza che si svolge in aula con l'apprendimento online e la comunicazione online che si svolgono sul web. L'obiettivo qual è? L'obiettivo è quello di sfruttare al meglio quelle che sono le caratteristiche del rapporto in presenza con quelle che sono le caratteristiche del rapporto online, in modo da sfruttare in modo ottimale le potenzialità e dell'uno e dell'altro tipo di ambiente. È per esempio il caso del cosiddetto apprendimento capovolto. In realtà l'apprendimento capovolto, se presa la definizione alla lettera, altro non è che è un caso estremo di blended learning, anche piuttosto rigido, nel senso che nell'apprendimento capovolto ciò che viene tradizionalmente fatto in aula, per esempio la spiegazione, viene invece fatto a casa tramite magari un materiale online come un video, una spiegazione, una video lezione. E ciò che tradizionalmente veniva fatto a casa, per esempio fare gli esercizi, i compiti, studiare eccetera, viene invece fatto con metodologie didattiche varie in presenza in aula. Ecco il blended learning è molto più flessibile, infatti nel blended learning noi possiamo miscelare in modo opportuno, a seconda delle circostanze, secondo una concezione proprio situazionale della didattica, le attività da svolgere. Per esempio non è sempre detto che la spiegazione sia meglio farla online, a volte potrebbe essere meglio che la spiegazione, intesa anche come lezione frontale tradizionale, venga fatta in aula. Oppure non è detto che non si possa fare anche online, per esempio, un'attività di tipo collaborativo, basti pensare al fatto che io posso far realizzare un lavoro di narrazione digitale, storytelling, per esempio utilizzando Google Presentazioni, modalità collaborativa, e gli studenti tutti a casa loro lavoreranno allo stesso documento. Quindi si possono mescolare in modo vario queste attività. La formazione diventa, ho scritto qui, distribuita e ubiqua, distribuita su diversi dispositivi, su diverse intelligenze che collaborano tra di loro e ubiqua perché avviene dovunque, everywhere, every time, in qualsiasi momento, eccetera, in un'interazione comunicativa che può avere una certa costanza. Cosa dovremmo decidere di volta in volta? Quali attività possono essere realizzate meglio in presenza? Non c'è una risposta buona per tutte le occasioni, cioè non posso dire la lezione, spiegazione, è sempre meglio farla online. Non è detto, dipende dal mio intento, dai bisogni miei dei miei studenti, eccetera, quindi dovrò deciderlo di volta in volta, in situazione. Quali, ovviamente, saranno invece le attività che posso fare meglio online? O magari un'attività posso spezzarla in vari step, in vari passaggi, alcuni dei quali saranno online, altri saranno in presenza, e così via. Ecco, questo è il Blending Learning, all'interno di questo contesto dobbiamo utilizzare i nostri video. Per esempio, un video messaggio, che senso ha? Si potrebbe dire, posso benissimo dirle in classe, in aula, quelle cose. Dipende, può darsi che in determinate situazioni, vuoi per mancanza di tempo, vuoi perché si intende far sì che gli studenti dispongano di un documento che possono consultare quando vogliono e in tutto comodo e possano rivedere, ecco, può essere meglio invece dare le istruzioni con un video messaggio. Bene, continuiamo con la nostra presentazione sullo screencast, presentazione di cui fornirò il link nel box descrittivo del video, quando l'avrò pubblicato su YouTube. Vediamo subito l'esempio classico, quello della lezione, della video lezione, e cioè, come si deve fare una video lezione per sfruttare al meglio le potenzialità ipertestuali, ipermediali che mi vengono offerte dal web. Facciamo un esempio in negativo questa volta. Esistono tante video lezioni di varie discipline, anche in italiano, presenti nel web, per esempio su YouTube, come questa che vedrete adesso. Io non ho voluto prendere una di queste per non fare il saputello, il presuntuoso con i colleghi, quindi ho simulato una di queste lezioni, ma se ne trovano tantissime. Come vedete c'è un faccione di un docente che parla. Vediamo un po'. Ecco, interrompiamo il video e cerchiamo di commentarlo. Cos'è che non va bene? Beh, si tratta semplicemente di una persona che sta parlando, in questo caso anche leggendo, lo so perché insomma il video idiota, il video con il tecno idiota riprende me, che si limita a leggiucchiare e a parlare. Si tratta di un pessimo esempio di come si fa un video con questi strumenti. È la peggiore più bieca didattica trasmissiva, in pratica, senza neanche quei vantaggi che, insomma, una lezione frontale, tutto sommato, può avere in presenza, quando la si può impostare in modo più o meno dialogico, per esempio, invece qui abbiamo proprio un monologo molto, molto, molto noioso. Cos'è che non va poi ancora? Bene, anche rimanendo nell'ambito di una comunicazione trasmissiva, o comunque di una spiegazione, che non necessariamente è trasmissiva quando si riesce veramente a spiegare, non si utilizzano quelli che sono le funzionalità e le caratteristiche proprie dello strumento, del canale, del web, un'immagine, uno schema, una mappa concettuale, una scheda, che integrino il discorso, che supportino il discorso, che amplino la valenza esplicativa del discorso. Non c'è niente. Ecco, questo è un pessimo esempio di come non si deve fare una video-lezione. Vediamo adesso degli altri esempi di comprendere come le idee si ripollino tra di loro e si connettano tra di loro. Ecco, spengo l'audio del video. Qui vedete una video-lezione realizzata da me utilizzando una mappa concettuale che avevo creato precedentemente, nel quale ho la possibilità, grazie a questa mappa, proprio di spiegare non solo dei contenuti, ma anche il rapporto tra quei contenuti. Si va già al di là di una mera trasmissività, c'è un certo livello di valenza esplicativa reso proprio possibile dall'uso della mappa concettuale, cioè dal fatto che non ci si limita a parlare mostrando il proprio faccione. Inoltre, vedete se andiamo avanti nel video, cambiano ovviamente le inquadrature della mappa, è una mappa molto ampia che permette di spiegare eccetera eccetera. Inoltre posso fornire il link a questa mappa agli studenti e posso magari insegnare loro anche a realizzare mappe con Cmap. Quest'altro video che vedete è invece c'è sempre una video lezione su Nice questa volta, realizzata da me, utilizzando un documento che avevo precedentemente realizzato con Word, sbizzarrendomi un po' con font, colori eccetera. Come vedete anche in questo caso posso fornire agli studenti il link di questo lavoro e vedete non compare neanche la mia faccia, compaiono soltanto parole chiave organizzate su aree tematiche e il mio discorso che cerca di spiegare questa sorta di percorso. Potrei fare altri esempi, per esempio si può utilizzare una presentazione ovviamente, ma dato che il tempo passa mi limito a segnalare questi tre articoli, soprattutto il secondo, non solo video. Perché? Perché dopo che abbiamo realizzato un video abbiamo ancora fatto poco se non creiamo intorno a questo video una serie di servizi e non forniamo insieme a questo video degli strumenti per comunicare. Rimane comunque una comunicazione unilaterale da docente a studente. Cosa vuol dire? Vuol dire che io posso per esempio far sì che gli studenti possano commentare il mio video con altri video magari oppure in formato testuale usando servizi e strumenti web che mi permettono di fare questo o posso inserire delle domande nel mio video a cui gli studenti devono rispondere e via dicendo. Insomma non si tratta soltanto di schiaffare online un video per pensare di aver fatto dell'innovazione didattica. il discorso rimane principalmente pedagogico e didattico, non tecnologico. La tecnologia è al servizio e ancilla della pedagogia e della didattica in questo caso. In quest'altro link, su quest'altro link trovate una mappa di apprendimento realizzata con Mindomo in cui c'è una sorta di vero e proprio percorso in cui fornendo materiali e risorse e vari video tutorial, esempi, buone pratiche, eccetera, tratte dal web, ci si può impratichire sull'uso dello screencast nella didattica. Concludo con quelle che sono le applicazioni che io meglio conosco e che ho utilizzato per realizzare video con la tecnica dello screencast, come d'altra parte sto facendo anche adesso, adesso sto usando per esempio Screencast-O-Matic. Qui trovate due video tutorial, ho messo quello di Jessica Redeghieri che è molto preciso, approfondito, chiaro, ma anche quello di Marcello Minero che è molto più recente. Loom mi piace molto, è free, anche se per avere tutte sbloccate tutte le funzionalità, bisogna, come dire, quasi un gioco, bisogna raggiungere certi traguardi. Google Hangout è del tutto gratuito, anche qui un video tutorial in italiano, come in italiano quello su Loom che ho fatto io. Dicevo a Marcello Minero che in 4 minuti spiega come realizzare una video lezione, registrarla, renderla disponibile agli studenti, una video lezione o quello che volete voi. E poi c'è a Powersoft che è un'altra applicazione web, dimenticavo di dire Loom è invece un servizio che si installa su Chrome. Dicevo a Powersoft che è molto carino e molto interessante anche questo strumento. Qui abbiamo un video tutorial di Monica Terenghi. Bene, sono riuscito a essere lungo anche questa volta, come al mio solito, per cui insomma lo screencast in soli 23 minuti. Vi saluto e vi auguro una buona giornata.